Bene, succede spesso, anzi spessissimo, che si faccia una selezione, magari con il lazzo a mano libera, quando soprattutto state lavorando con una tavoletta grafica e il tempo è quello che è, e la selezione non si è riuscita esattamente come si desiderava, in questo caso ci viene incontro una funzione di Photoshop che troviamo sotto il menu selezione migliora bordo, ecco in questo caso abbiamo, aprendo questa maschera, abbiamo a disposizione tutta una serie di opzioni che ci consentono di lavorare al meglio sulla nostra selezione, sia in termini di visualizzazione sia in termini di modifica della selezione stessa. Abbiamo a disposizione un raggio che ci consente di lavorare sulla dimensione della nostra selezione, vedete come cambia sensibilmente la dimensione della selezione, su un contrasto che ci permette di aumentare il valore di contrasto in modo tale da fare sì che i bordi della selezione siano più nitidi, un valore di arrotondamento che ci consente ancora una volta di smussare eventuali angoli indesiderati siano presenti nella nostra selezione, oltre ad avere poi un comando di gestione della sfumatura per rendere, al contrario del contrasto, la nostra selezione più morbida. Infine il contrai espandi che ci consente appunto di espandere o contrarre la nostra selezione. Una volta trovata la combinazione giusta per tutto quanto, tutta la nostra selezione, possiamo dare un bel ok, tenendo sempre presente che ad ogni comando che andiamo a selezionare, riceviamo un aiuto da parte di Photoshop che possiamo espandere o nascondere in questa sezione della maschera per meglio capire come funziona il comando migliore a bordo.